Il fenomeno della movida violenta all'Aquila è sempre più diffuso. Certo, non sono episodi paragonabili a quelli di altre grandi città, ma la cosa preoccupa non poco e così ci saranno dei controlli intensificati e mirati dal giovedì sino al fine settimana, come deciso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nei giorni scorsi. Il questore Enrico De Simone ha spiegato al centro che stanno rimodulando i servizi interforze, con presidi che non saranno fissi ma mobili a seconda delle esigenze, con particolare attenzione alle zone più frequentate dai ragazzi, portici di San Bernardino e quattro cantoni. Le risse purtroppo non si contano. L'ultima tra sabato e domenica ha coinvolto quattro persone e le forze dell'Ordine hanno chiuso il locale vicino alla fontana luminosa. Coinvolti due dipendenti, ma i loro avvocati hanno già spiegato che sono stati malmenati mentre lavoravano e ci saranno denunce. La settimana prima una rissa si era scatenata davanti alle vetrine di una gioielleria, con un ragazzo finito in ospedale per un pugno sul volto. Il centro storico è troppo spesso ormai, i commercianti lo hanno più volte denunciato, è sotto scacco di bande di ragazzini. Gli stessi esercenti sono esasperati. Il momento è critico e l'abuso di alcol tra i giovanissimi ha numeri impressionanti. In questo discorso c'entrano le associazioni di categoria che sono pronte a collaborare con campagne mirate. In particolare ci sarà la campagna Bevi Responsabilmente, lanciata dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, come ha spiegato il presidente provinciale Daniele Stratta, ma anche Angelo Liberati, presidente di Confcommercio L'Aquila, spiega che la loro attenzione è massima e nei prossimi giorni la campagna prenderà corpo sul territorio. Io ritengo che la prevenzione sia la cosa primaria per questi episodi che così non possono accadere. Noi ci stiamo muovendo come ci siamo sempre mossi responsabilmente nel rispetto delle regole. Beviamo con responsabilità, è una campagna che l'abbiamo sposata anche nel nostro territorio. È un dovere di tutti, da coloro che fanno, dalle forze dell'ordine sì che debbano controllare, ma dalle amministrazioni locali, dalle attività commerciali, dai stessi cittadini che vedono degli episodi che possono dare atto a questi atti di violenza. E poi dietro ci sono anche le famiglie. Non vogliamo demonizzare assolutamente la gioventù perché è bello rivedere le nostre città rivivere, specialmente che noi veniamo da un lockdown sismico, io dico. Non bisogna trovare rifugio per divertirsi nell'alcol. Si sta verificando che nel quanto loro si presentano alle casse, oramai diciamo in tutti i supermercati viene, e spero anche nei piccoli negozi questo, nel riscontro negativo che hanno da parte delle cassiere, loro vanno a trovare degli innocenti maggiorenni, signori, cedendo dei soldi, mi può fare questo favore. Nel rifiuto delle cassiere c'è sempre il bulletto della compagnia che dice mo ve lo faccio vedere e entra, viene, cercano di prendere il non dovuto tramite il furto che non sanno le conseguenze poi che sono ancora più grandi.